Buongiorno Dario, prego, si accomodi. Allora, ha fatto bene a rivolgersi al nostro studio, intanto io ho dato un po' un'occhiata al suo fascicolo e se ne va bene lo proviamo a leggere insieme così cerchiamo di delucidarla un po' sulla sua situazione. Allora, in tema di rappresentanza senza poteri, se la domanda di accertamento dell'inefficacia del contratto sia proposta dall'obsedo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso rappresentante che lo ha stipulato, si determina un cumulo soggettivo che trasforma l'originario litis consorzio facoltativo in litis consorzio unitario necessario di carattere processuale, quindi funzionale a prevenire l'eventuale contratto. Capire la legge è un incubo? Ordina anche tu la tua copia di La legge per tutti di Angelo Greco, il libro di diritto che parla la tua lingua. È scritto in modo così semplice che persino uno come Dario può capirlo. La legge per tutti è un libro, leggere attentamente il contenuto all'interno di esso non è indicato per spiccare il volo o per uscire di prigione.